Now is somebody I used to know Per fare questo gioco ho bisogno dei 4 jack e di un mazzo di carte Vado a prendere i 4 jack e li vado a lasciare così, sul tavolo Vado a prendere invece il mazzo di carte e dal mazzo di carte vado a selezionare 3 carte dal centro Che sono l'asso, il 2 e il 3 di quadri Li vado a mettere così in cima al mazzo, quindi il 3, il 2 e l'asso Vado ora a prendere i 4 jack Con i 4 jack andrò a prendere le carte di quadri, quindi vado a prendere l'asso e lo vado a mettere in mezzo Vado a prendere il 2 e lo vado a mettere in mezzo E per finire vado a prendere il 3 Quindi ora ci troviamo con i 4 jack con alternate le carte di quadri Ma in un attimo, schioccando le dita, passando la mano sopra I 4 jack rimangono soli e le carte di quadri spariscono Per ricomparire all'interno del mazzo Nella posizione di partenza Interlaced su window Grazie 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 a tutti.